esco da tre ore di gameplay di apex in ranked e devo essere sincero ragazzi volevo partire aggressivo per piacere player di tutto il mondo alti non alti intermedi che non avete mai visto a sto cavolo di gioco per piacere la prima parte del gameplay è davvero molto importante in questo titolo insomma per essere dei buoni player di apex ragazzi richiede c'è proprio un mondo intero da dominare non è per nulla semplice ok se voi pensate che sia un semplice sparatutto per piacere datevi all'ipica ok ma ci sono tante cose tanti frangenti tanti momenti del gameplay e il primo e più importante e che probabilmente ragazzi qua non ho mai citato e argomentato in maniera importante è appunto l'early game il momento iniziale ragazzi che cosa bisogna fare che cosa non bisogna fare quali sono le cose giuste quelli che sono le cose sbagliate come si comunica che cosa è indicato ragazzi fare e non fare in quel preciso momento non l'abbiamo mai detto non l'ho mai detto e allora non mi posso lamentare che i player ragazzi facciano questi errori perfetto rimediamo immediatamente con questo video benvenuti sui sporti tapiscia 3 ore di gameplay appena passate ragazzi sono stato un piccolo inferno e il primo grande enorme ma sto d'ontico errore che avete fatto e mi ha fatto girare davvero le coglioni è stato il landing ragazzi vi ho già detto il titolo non è solamente uno sparare e un riflessi da felino e avere un buon loot no mettete da parte tutto questo c'è strategia c'è pensiero c'è insomma una mentalità dietro a ogni singola fase del game è la prima quella che fate dal minuto uno un minuto uno ragazzi è il landing bisogna imparare a farlo per piacere sì ragazzi è stato davvero un inferno e quando vedo che il leader che si lancia non sono io beh la cosa ragazzi beh non è che dico che mi dia fastidio ma se vedo che loro tendono ad atterrare sulla stessa traiettoria dell'astronave oppure tendono sempre a scendere in quei posti dove ragazzi c'è un loot migliore e che appunto molte altre persone si riversano per cui non guardano neanche a destra neanche a sinistra io mi chiedo e mi domando ma voi di questo titolo di un battle royale ne avete mai sentito parlare? no perché adesso vi spiego leggermente due cose allora in una navicella ci sono tutte queste persone ok? e queste ragazzi in base a distanze in base a dove ci si buttano le persone appunto si va a decidere allora consiglio numero uno che devo dare su questo punto evitate se volete sopravvivere e non avete riflessi da gatto non avete buone armi non siete dei player ragazzi che sono in grado di affrontare situazioni molto spinose perché buttarsi con altre squadre nello stesso identico punto vuol dire molto probabilmente doversi arruffare già dal primo secondo per il loot e potreste non averlo voi il miglior loot ok? e potreste anche non avere tutta la squadra con voi quindi ragazzi consiglio numero uno per piacere non l'endate direttamente sotto il percorso dell'astronave consiglio numero due di questo punto allo stesso tempo ho capito il loot migliore ragazzi sì è molto importante avere un Mastiff tutto d'oro o avere del loot di alto valore sì sicuramente può aiutare ma non fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta per cui se sotto di voi ci sono alcune zone dove il drop dove le armi sono appunto di un valore estremamente alto prima magari fate un attimino un'analisi di chi scende di chi è sceso di qual è la loro scia essenzialmente ragazzi c'è anche questo che dovete valutare quando vi buttate e siete voi il leader del terzetto dovete anche in qualche modo iniziare a ruotare la telecamera e iniziare a vedere chi sta allendando con voi se ci sono tre squadre che stanno allendando con voi essenzialmente io farei un bel turnover e andrei anche in un posto anche di loot potremmo definire scarso e normale ma piuttosto che morire subito nel primo secondo non fare niente non giocarsela e buttarsi lì e come va va io dico no vi prego mi scasso davvero tantissimo la minchia morire nei primi minuti di gameplay è davvero da nubi patoccari e poi ragazzi ci sono tanti altri problemi ma il primo in senso alcun dubbio è l'ending fosse solo questo ragazzi altra cosa importante e che l'ho già messo in tante altre ma adesso entriamo più nel dettaglio del gameplay e ragazzi sono davvero estenuato da queste cose è che se sono io che faccio il leader che si butta giù da quella cavallosissima di astronave almeno prima di buttarmi butto un ping ai miei alleati i miei alleati poi decreteranno sì no va bene solo uno mi dice ok la maggioranza vince ragazzi voi non fate i grandissimi stronzi vi prego non siate stronzi e dite no loro stanno sbagliando sì probabilmente si stanno buttando in determinato punto magari proprio a picco sotto dove c'è il percorso dell'aeronave per piacere ragazzi anche se così fosse ok anche se avete completamente ragione lasciarli soli e poi andare da qualsiasi altra parte non pingare non dire niente fare cosa cavolo volete di testa vostra è davvero la peggio mostruosità che potete combinare ragazzi l'individualismo ebbene chiameremo a questo punto individualismo è essenzialmente il più grande fattore di disfatt di questo battle royale e stiamo parlando di un battle royale che si gioca in terzetti oppure in coppie perfetto vedete di in qualche modo adeguarvi come vi ho già detto non è detto che chi sta allendando stia guardando stia valutando probabilmente sarà anche un player di scarsissimo livello tutto quello che volete ok ma ragazzi lasciare soli quei due player e voglio andare da un'altra non porta benefici a loro e non porta benefici a te tanto vale ormai che si sono buttati in quel determinato posto almeno cercarsela di giocare appunto magari l'endate tutti nello stesso punto magari voi che avete conoscenza di dove possono essere quei due tre drop quelle due tecasse magari più numerose puntate verso quel determinato punto e allo stesso tempo ragazzi insomma andate a braccetto siate ve l'ho già detto ragazzi coordinazione vi ho già detto lavoro di squadra ma sono parole vuote ok se davvero non siete capaci di buttare giù un rospo non riuscite a mettere da parte il vostro individualismo il fatto che dite ah sono sempre nel giusto potreste morire potreste fare una figura barbina perfetto questo vi darà più ragioni ok ma allo stesso tempo ragazzi potrebbe anche essere dico potrebbe anche essere che in quel determinato punto che magari quel landing non è andato tanto bene e ci sono anche tre squadre potreste anche riuscire a scappare spuggire o mettere a segno un bello po' di kill insomma non è improbabile ok ma lo si può fare solamente se tutti l'endano nello stesso punto non l'endate nello stesso punto pensate di fare che cavolo volete pensate che in un battle royale come Apex anche se arrivati in top 5 di poter combinare qualcosa e siete da solo mi dispiace siete dei poveri individualisti e meritate appunto di morire al momento 1 punto numero 3 ragazzi non so come chiamarlo ma essenzialmente lo chiamerei ratting ok non credo che esisti come termine ma essenzialmente sto parlando di tutti quei player ragazzi che aprono una cassa ok vedono che c'è un evoke vedono che c'è una mozambique vedono che c'è qualsiasi altro fucile che magari non rientra ok che non hanno mai provato non rientra quindi nel nel loro nel loro dna ok di giocatori di Apex quindi cosa fanno piuttosto che armarsi che appunto sono smarcati sono appena allendati ragazzi piuttosto che prenderli su le lasciano lì ragazzi qua qua ragazzi bisogna prenderle ste cavolo di armi ma soprattutto ragazzi altro puntino fondamentale in questo piccolo argomento ok e smettete la costantemente di andare in cerca di un loot migliore se avete già un mastiff e avete già la vostra cavolosissima di carabina o qualsiasi altra arma voi vogliate e quindi in qualche modo voi siate già pronti e carichi per piacere smettetela di andare sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo argomento vasto questo che dovrei solo questo spezzarlo in due allora amici nella prima parte ok di questo punto mettiamo appunto tutti quei videogiocatori che lendano non hanno una pistola non hanno niente assolutissimamente niente e che cosa fanno lasciano lì i devotion lasciano lì i emlock lasciano lì le mozambique insomma ragazzi non potete fare questo dovete comunque nella prima cassa nella prima cosa che tirate su tirateli su comunque dovete comunque sparare questo è un videogioco dove si spara dove chi ha le armi essenzialmente può vincere e se avete anche sbagliato il landing perché essenzialmente poi stiamo parlando di persone ragazzi che appunto si buttano in quei grandi posti dove c'è il grande loot ma non è detto che l'arma loro principale più forte gli sia capitata in mano a loro no loro cosa fanno iniziano ad andare a destra e sinistra senza un'arma per cui ci trovi nei primi 30 secondi in cui non puoi non avere un'arma nei primi 10 secondi devi avere un'arma altra cosa ragazzi sono tutte quelle persone che appunto ingorde dei ratti sempre in cerca di nuovo materiale 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 si fanno ammazzare vanno a destra e sinistra non sanno aspettare non guardano niente di niente di quello che gli succede attorno per appunto cercare la batteria per appunto cercare la loro arma per appunto cercare e non fanno niente anzi lo sapete cosa fanno? lasciano la squadra proprio dicono ah ma quello è già stato lutato dalla mia squadra non me ne frega niente io vado ancora più in là quindi in qualche modo si espongono a nuovi nemici che potrebbero vederli e lui ha solamente in testa una cosa armi 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 materiale batterie questo e quell'altro non fa gioco di squadra non vuole giocare questa persona non vuole giocare vuole essenzialmente avere le cose grosse come se poi sapesse utilizzarle anche perché c'è anche da dire questo ragazzi in parole povere ragazzi questo che pure individualista che pure non sa fare gioco di squadra che pure snobba ciò che il titolo gli dà ok e non si è mai neanche posto il problema di imparare a utilizzare qualcosa al di fuori del suo cavolosissimo eva 8 io dico cosa stai ancora facendo in questo videogioco ti prego dati all'ipica ragazzi c'ho davvero le scatole che stanno fumando ok perché stiamo sempre parlando delle stesse cose e sembrano basilare sto proprio dicendo delle cose da pulcini da asilo nido ok allo stesso tempo anche se tu mandi un landing pinghi questo e quell'altro per piacere un cavolo di segno un cavolo di segnale un cavolo di voglio io quell'arma un cavolo di sì no qua c'è un nemico per piacere me lo puoi dare soprattutto nella prima parte del game che poi diventa importante anche nell'ultima ma è sempre importante diciamo la comunicazione io ve l'ho sempre detto lo continuo a mettere ma continuo a vedere player ragazzi che non sanno premere il tasto centrale del mouse non sanno che esistono una montagna di plitore di comunicazioni che possiamo dare ai nostri compagni non serve avere un microfono per comunicare con le persone non serve giocare solamente con italiani ti basta un ping ok sì no nemici valuto sì voglio l'arma per piacere tienimela il sistema di apex ragazzi è uno dei più completi che ci sia in circolazioni e vi permetterà come ho già detto di poter espletare diverse frasi importanti ok come ad esempio il nemico come ad esempio una posizione come ad esempio l'apertura la chiusura di un di una determinata porta di una determinata lootbox il fatto che si prende sì o no il balloon il fatto della safe il fatto dei va bene non mi va bene proviamo da un'altra parte essenzialmente ragazzi è un sistema estremamente completo ma io sono sicuro che non li usate ne sono così sicuro ragazzi perché obiettivamente non sono un player di alto livello tante cose nelle libere con chi gioco molto probabilmente solo un player su tre ragazzi ogni tanto risponde ogni tanto non fa l'individualista ogni tanto appunto comunica vuole migliorare vuole giocare insieme appunto comunicazione con coordinazione con gioco di squadra con questi player riesco a fare delle buone partite top 3 vittorie perfetto è una vittoria molto più facile di chi se l'è andata da una parte da chi sta facendo rating da chi non vuole quella determinata arma da chi ragazzi pensa che apex sia appunto andare in cerca di guai senza pensare senza ragionare ecco appunto questo è un altro grande problema che ho trovato perché si ragazzi apex non è esattamente oh mi sto scaldando apex non è esattamente un titolo in cui tu puoi andare a brillea sciolta oppure come si dice dalla nostra parte alla garibaldina tu non puoi pretendere di sparare prima tu i tuoi alleati sono dietro tre costoni e puoi pretendere che loro sparino con te oppure pinghi oh sei giù è andato giù cosa fanno adesso i dementi pingano 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 che cazzo pinghi che cazzo stai pingando non dovevi muoverti ci vuole tattica e lo sai perché ci vuole tattica perché sebbene questo titolo questo titolo ragazzi non sia un cavolo quindi c'è un colpo un morto oppure valorant essenzialmente ci vuole poco ti basterebbe un colpo di crabberne la testa per andare giù tu ti devi muovere con le persone appunto individualismo appunto ratting appunto voglio solo le armi e vincerò tutto no non serve niente non servono le armi per vincere in apex non serve neanche avere il loot ultra leggendario sai cosa ci vuole semplicemente strategia ebbene sì ragazzi sembra una cosa che sfugge praticamente al 70-80% dei player che si affacciano a questo videogioco si sta parlando di un gioco a trio ok e allo stesso tempo ragazzi buttare giù una persona non è così difficile cioè ci basterebbe davvero poco come vi ho già parlato basterebbe un colpo di crabber basterebbero 4 colpi di mastiff ben assestati basterebbe una bella scarica di mitragliatore anche leggero ragazzi per buttarlo giù il devotion ha tantissimi colpi per cui ti butta giù facile e veloce insomma ragazzi non dico che si muore facilmente ma si muore abbastanza facilmente ok che cosa in qualche modo vi preserva dal morire appunto evitare di giocare in singolo evitare di colpire senza avere la vostra squadra che in qualche modo vi possa sopportare appunto andare troppo avanti appunto non guardare magari a destra e a sinistra come appunto chi fa ratting ragazzi chi va solo in cerca del loot e non guarda cosa cavolo gli sta attorno uno che spara e non guarda se ci sono altre se cade in un panino la safe non safe credete sia un gioco da ragazzi credete che i professionisti riescono a fare delle buone partite semplicemente perché attaccano la prima cosa che vedono come un leone come un animale ragazzi non siamo animali ragazzi questo è un gioco che fa appunto della strategia voi potreste vincere una battle royale con la mozambico per dirne una ok mentre l'altro avrà il kraber mastiff e chi più ne ha più ne è meno o il crawler potrebbe avere tutto quello che volete voi potreste vincere con una mozambico come? semplicemente aspettando i vostri compagni e cercando appunto di studiare una posizione favorevole immaginate di spingere un nemico che gli sta arrivando la safe dietro per cui gli brucia pure vittoria facile ma bisogna farlo con appunto tutta la squadra puntata e con un piano ben in mente appunto strategia ultimo ma non ultimo ragazzi e qui apro un mondo perché con indecisione ragazzi dico davvero di tutto e dico davvero moltissimo ma essenzialmente sapete cosa nelle prime parti frega moltissimo i player inesperti l'indecisione e cioè il fatto che non sapete essenzialmente come attaccare non so se avete mai notato ma Apex ragazzi non è a disposizione così tanti colpi o comunque i caricatori di alcune armi ragazzi non sono così tantissimi ok per cui in qualche maniera a meno che non incassiate buttiate dentro tutti i colpi che sparate di quel determinato mitragliatore e poi lo ricaricate per cui ragazzi capite che il processo è molto lungo essenzialmente è molto difficile è complicato buttare giù un player diciamo così di getto di impatto di primo di primo attacco ok ed ecco appunto che poi iniziano le paranoie ecco che non ci sappiamo come muovere ecco che nessuno flanca ecco che nessuno supporta ecco che non si usano più la verità che cosa fate vedete un nemico e andate dritti verso la sua bocca ebbene si ragazzi già di per sé andare in bocca ad un nemico in un titolo come Apex è un'idea proprio barbina stupida poco intelligente che non dovreste mai fare perché vi ho già detto basterebbero 4 colpi di Mastiff per buttarvi giù e il Mastiff non è esattamente un'arma rara è un'arma che trovate abbastanza di frequente oppure so di persone che utilizzano molto bene il Devotion oppure altre armi come le carabine o l'R99 e chi più ne ha più ne metta insomma ragazzi stiamo parlando di un titolo dove potreste morire con enorme velocità potreste anche non accorgerne ok e poi che cosa succede ecco che all'improvviso entra il panico nella vostra testa non sapete più cosa fare non sapete più dove andare non sapete quando arrestare il vostro alleato ragazzi analizzate le cose con calma arrestate il vostro compagno quando è magari lontano dai colpi che vengono sparati appunto voi vi spostate leggermente dietro un angolo ok e mettete magari se avete un caustico avete un blowdown scoutate mettete una trappola di gas oppure ancora meglio entrate in casa posizionatevi dietro una porta e poi iniziate a arrestare avete capito sono tanti piccole cose ma sono davvero basilari ma che in quei momenti quando siete fuoco nemico quando dovete ricaricare quando avete fatto 40 colpi e ve ne sono entrati si o no 3 perché indubbiamente ragazzi non stiamo parlando di player capaci di buttare dentro un intero caricatore quando vogliono e dove vogliono ecco ragazzi cercate di analizzare con calma la situazione non buttare lì e iniziare a correre a destra a sinistra all'impazzata oppure iniziate a pingare a destra e sinistra o non utilizzate neanche più l'abilità o ancora peggio correte in faccia al nemico che appena ha buttato giù il vostro compagno dicendo adesso ci penso io ma ci pensi tu cosa pensi di essere il migliore in assoluto pensi di vincere ogni singolo scontro a fuoco che ti si pari davanti chi sei shroud chi sei ninja chi sei croato misto all non credo proprio altrimenti non giocheresti in partite aperte e nelle rank diciamo basse cioè fino a loro ecco per dirne una ma ecco ragazzi il grande consiglio per cercare di sopperire a questa mancanza questa ansia da prestazione in quel determinato momento l'unica cosa che potete fare è solamente fare tanta tanta pratica ragazzi sull'ultimo punto e su altri dovrei proprio fare degli argomenti ad hoc e credetemi arriveranno in un futuro in un futuro voi mi state facendo molti complimenti su Apex ragazzi lo apprezzo davvero tanto spero di iniziare a portare qualche podcast spero di poter analizzare qualche partita spero di poter anche in qualche modo vedere qualche ranked di basso livello in modo tale da vedere cosa possiamo fare e cosa no devo ancora studiare essenzialmente come potrei farlo ma ragazzi ci sto lavorando ok voi se volete darmi una mano l'unica cosa che dovete fare è lasciare un like e iscrivervi ai spot e da passion e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao 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 ciao